Queste cose qui. Oggi la Federica è andata in edicola, perché te sei una che, eh? Sei un po' una curiosona delle edicole, vero? E cos'hai comprato oggi? Aspetta, The Epic Animals, Creature degli Oceani. E poi c'è in dotazione, oltre all'animalina, anche questo bel libro che ti spiega tutti gli animali che hai trovato. Tu cos'hai trovato? Uno squalo, un mertraio è uno squalo. Non si mangia con la bocca piena, però, eh? Allora, un bellissimo squalo gommoso, sono anche profumati, è vero? Sono morbidosi, hanno delle specie di sassolini, sono belli. E poi hai vinto? Hai preso questo squalo martello, che è veramente bello. Ce ne sono tantissimi, quanti ce ne sono? Ehi, guardate quanti, ragazzi, è pieno. Io volevo vincere questo, però, eh. C'è lo squalo, tigre, lo squalo, tutta la razza, tutti i tipi di squali, tutti, bellissimo. Questo qui, anche se è un pesce martello, comunque è sempre della famiglia degli squali. Si apre anche la bocca. Oh, ma mi ha morso! Aiuto, è pericoloso! Sì, sono morta, guarda. E poi dov'è che ti sei presa in edicola anche? Nei mentos. Le caramelle. Non sono, anche qui ci sono mamma, anche la mamma. Le caramelle. Non sono le mie. Vabbè, e intanto dopo giochiamo nella doccia questa sera con questi pesciolini. Allora le mie sono anche della mamma, le caramelle. Vabbè, non litigate per le caramelle, eh. Dai, che siete grandi. Va bene, allora niente, come sono queste buste? Sono belle? Le consigliamo ai nostri amici? Sì. Se volete trovare degli squali, di tante creature degli oceani. Si trovate in edicola? Si trova in edicola, eh, ok? In edicola di me, sta mi raccomando. Vabbè, in edicole. Ciao! Ciao ragazzi!